buon pomeriggio sono le diciassette e cinquantasei ben ritrovati per il nostro corsetto appuntamento con lo speciale Sanremo venti e ventidue dedicata alla settantaduesima edizione del festival di Sanremo speriamo tra pochi minuti di essere in collegamento diretto con i nostri inviati con il nostro inviato a Sanremo eh Tonino Ciancola che sta tornando in questi minuti nella città dei fiori per avere la eh per avere il nostro collegamento a breve ci lasciamo alle spalle una terza serata davvero intensa ricca per davvero di grandi emozioni anche in questo caso gli ascolti hanno eh premiato il festival se mai ce ne fosse bisogno tra l'altro possiamo dire che eh Sanremo si sta rivelando davvero una eh chermesse molto importante anche con tanti ospiti che si sono avvicendati nell'arco di eh queste eh ore e tra l'altro c'è anche da dire che c'è stata una importante telefonata che è giunta ad Amadeus da parte del presidente e della repubblica eh Sergio eh Mattarella eh ho fatto io qui da Amadeus sa come è adesso come sta andando eh la eh chermesse eh in nell'attesa di avere a breve il nostro inviato eh Tonino Giancola in collegamento diretto dalla città di Piori eh abbiamo pronto il servizio che ci dice e ci racconta quello che è successo nella serata di ieri il servizio dei grandi ascolti non delude nella terza serata del suo cammino nazionale popolare certi che sarà una settimana da ricordare Drusilla fu una donna affascinante ed ironica quanto basta per scaldare il pubblico insieme al duetto con Amadeus la riproposizione delle canzoni con il volto televisivo riporta il duo Mahmood blanco in vetta la classifica il ritorno di un cesare cremonino intenso basta per scaldare una platea dell'ariston dove le emozioni sono di casa. Roberto Saviano punta il suo monologo su ciò che le stragi mafiose ci hanno insegnato con l'invito a non abbassare mai la guardia senza dimenticare l'omaggio al capo dello Stato e a un centennato difficile e di rinascita sociale. Mimmo Siena. World News 24. E queste dunque sono le emozioni che ci hanno portato ieri nella serata di Sanremo. Vi dicevo poco fa che Amadeus ha ricevuto oggi la telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella era commosso per l'omaggio che il festival gli ha attributato e ha confessato di essere una grande fan di Mina. Ha detto tra l'altro Amadeus ha fatto presente che le preferenze musicali dell'inquilina del Colle sono un altro dei rari dettagli sul privato eh emersi negli ultimi giorni che tutta Italia ha passato osservando le vostre del Parlamento e dei principali leader politici. Anche ieri la serata è stata abbastanza intensa, è stata seguita da tantissimi eh telespettatori con appunto anche che sono arrivate al cinquantaquattro appunto otto per cento. C'era ma anche eh ricordato ehm che ehm insomma le canzoni sono state abbastanza belle, ieri sono state riproposte tutte venticinque, ieri c'è stato anche il televoto che ha ripremiato eh Elisa che è avanzata eh che ha ripremiato Susate Mamod e Blanco che sono ripassati in ammetta alla con il loro eh brano eh brividi. Noi teniamo ancora la linea per qualche minuto magari il eccoci qua, scusateci, ecco noi restiamo ancora collegati, magari il nostro inviato eh Tonino Giancola evidentemente eh ci fa, ci potrà eh eventualmente eh farci sapere se eh riesce a collegarsi, intanto meglio mandiamo il messaggio. Tonino comunque noi siamo collegati, se sei in viaggio comunque puoi metterti in contatto con noi tranquillamente. Allora abbiamo mandato il nostro eh messaggio al nostro inviato quindi vi dicevo che eh Sanremo ieri ha registrato appunto intorno al cinquanta quattro per cento di scena molto seguito ovviamente soprattutto in tutte le vasce dai giovani ai meno giovani per arrivare fino a quelli di una certa età ed evidentemente questo è un segnale che mette in evidenza come il festival di Saremo ma soprattutto anche il ritorno del pubblico ne abbia ampiamente eh beneficiato. Eh ormai si può dire che piano piano stiamo uscendo dalla pandemia, questa è già una notizia eh sicuramente in importante ed anche eh di peso. Eh tra l'altro vi voglio dire che eh in questo momento ehm si stanno completando le prove per quanto riguarda la quarta serata del festival va anche ricordato e detto che oggi saranno in scena le cover cioè le proposizioni di alcuni celebri brani che hanno segnato la storia della musica italiana ma anche eh di eh Sanremo eh stasera sarà Maria eh Chiara Giannetta l'interprete di eh Blanca ad essere protagonista dopo eh la condizione legata alla Flor che ieri è stata semplicemente eh strepitosa, meravigliosa sotto tutti i punti di vista come dire che da queste parti quando si sente parlare eh di eh tante cose anche Sanremo mette in evidenza il tutto eleganza eleganza eh compresa. Eh allora vediamo un attimino siccome in questo momento io non lo vedo collegato eh Tonino Giancola proviamo ad avere un collegamento diretto con lui magari in versione audio in modo tale da eh poterlo eh magari eh avere al telefono eh il collegamento audio e vediamo un attimino se eh almeno in audio eh lo possiamo evidentemente sentire lo stiamo facendo squillare il telefono quindi vediamo un attimino se Tonino Giancola riesce a risponderci evidentemente altrimenti riproveremo tra qualche minuto in ogni caso eccoci eccoci Tonino è in diretta siamo in diretta Tonino ci sei? Sì Mimmo ci sono siamo un po' eh siamo un po' incasinati quest'oggi perché eh capire che è una giornata così importante eh per via delle cover eh allora Sanremo è presa d'assalto da da tanti giovani arrivati qui a Sanremo presidiano i punti di punti ineragici importanti di Sanremo eh l'hotel de Paris che è l'albergo dove alloggia Mammo Blanco eh e qualcun è qualcun altro quindi eh tutti questi ragazzi e ragazze che sono nei pressi di questi alberghi sostano immagina da questa mattina alle sette erano già a meno un cinquanta davanti a questo albergo il l'hotel de Paris che è un pochissimo distante dall'albergo dove alloggiamo noi eh quindi sulla strada lungomare di Sanremo è la strada che poi porta direttamente all'ariston Torino eh ieri è stata una serata abbastanza intensa sappiamo anche che la classifica è stata in pratica capovolta nel senso che sono tornati in testa Mahmood e eh Mahmood con Blanco eh insieme con Brividi eh insomma questo fa capire che il testa a testa con Elisa sarà abbastanza emozionante almino alla fine sì il testa a testa con Elisa sarà emozionante eh c'è la sorpresa a Morandi eh chiamiamo la sorpresa anche se stiamo parlando insomma di Gianni Morandi un terzo posto eh meritatissimo ha detto ha detto di qualcuno ecco degli addetti al lavoro un terzo posto meritatissimo ma io io mi aspetto qualche qualche sorpresa caro Mimbo credo che ci saranno delle sorprese credo ci saranno delle sorprese questa sera per le cover non tutti le canteranno in coppia eh credo che su tutti sette eh sette artisti hanno deciso di eh di cantarsela così da da soli eh vari pezzi anzi no sette artisti canteranno pezzi eh di caratura internazionale tra questi ci 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 sarà Elisa eh Emma le vibrazioni e adesso prima un ricordo e noi ovviamente prendiamo queste notizie le prendiamo al volo la mattina in casa Sanremo quindi hanno confermato che sette artisti canteranno eh brani internazionali eh non tutti faranno il duetto non tutti faranno il duetto alcuno ha preferito cantarsela così da solo come 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 si esibisce normalmente eh cresce la tensione cresce la tensione e la vivere a Sanremo nel periodo del festival è un vivere eh emozionante veramente emozionante perché eh puoi immaginare che è un cantiere aperto di di televisioni di radio eh artisti di strada ragazzi che eh presidiano Sanremo in tutti i punti e poi ci sono tantissime televisione che vanno in giro per intervistare tutti eh qualsiasi angolo di Sanremo eh e è facile preda di diciamo di di improvvisati cronisti che ti ti chiedono eh è una cosa veramente bella è una cosa veramente 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 bella questo è sicuramente un dato di fatto e considerando che anche noi siamo sul campo visto che sei lì per noi alla città dei fiori quindi che ancora di più emozionante evidentemente ti spiace non essere in video quest'oggi perché eh come ti ho detto ti ho mandato un messaggio sì eh siamo stati in quel di Monte Carlo eh che non dista non dista tanto da da Sanremo bene eh siamo andati nel Principato di Monaco per per vedere una cosa eh grandissimo spettacolo grandissimo spettacolo allora a questo punto eh noi prima di salutarti io voglio eh anche fare una comunicazione di servizio anche per Tonino domani andremo in onda un pochettino più tardi perché siccome ci sposteremo per qualche ora alla redazione di Pari quindi torneremo eh poco prima delle prime luci della sera ma comunque in ogni caso ti terremo informato Tonino sui nostri spostamenti e poi anche sulla messa in onda del nostro speciale che domani andrà in onda un pochettino più tardi rispetto al tradizionale appuntamento solito delle diciotto tonino sì va bene Mimmo va bene poi magari mi passerai la comunicazione assolutamente sì ma prima di chiudere prima di chiudere eh esprimo ovviamente un mio parere personale eh c'è un grande vincitore di questo Sanremo eh c'è un grande vincitore questo grande vincitore si chiama Amadeus e questa è la sua attività terza apparizione sul palcoscenico dell'Ariston è un grande padrone di casa Amadeus è una persona fantastica una un uomo semplice ehm rispettoso della propria famiglia rispettoso delle regole e vive vive di emozioni vive di emozioni e lo questo lo si vedono dai numeri di questo festival quest'anno che ha superato di ben dieci punti lo share quindi stiamo parlando di ascolti pazzeschi ma tutto questo è grazie a una perfetta conduzione e anche e anche a tutto quello che gira intorno a questa grande macchina che è quel di Sanremo bene con questo spirito allora a questo tutto questo è contornato ovviamente dalla pazza voglia di ritornare alla normalità da parte degli italiani e non solo eh oggi oggi eravamo eravamo questa mattina presto quando siamo arrivati nei pressi del dell'Ariston c'erano due signore che erano erano due fan spiegatate di Anna Mena erano spagnole eh loro la cosa che gli piaceva tanto dice eh in Italia avete una cosa che non abbiamo noi questo festival incredibile vivere queste emozioni questa questa atmosfera è una cosa veramente eh calda pazzesca bella siamo venuti dalla Spagna proprio per vivere queste emozioni con con gli italiani quindi siamo fortunati ad avere anche questa grande manifestazione sono d'accordo sono perfettamente d'accordo tra l'altro diciamo che finalmente si sta tornando a una normalità che ci mancava praticamente da due anni auguriamoci che si possa procedere così adesso fine febbraio marzo eh sicuramente saremo pronti a ritornare alla normalità quella normalità che ci ha lasciato insomma infatti e quindi saremo saremo ecco saremo pronti e questo è un punto interrogativo saremo pronti e niente tutto questo va bene Mimmo io mi dispiace non averti dato delle immagini perché tranquillo Tonino comunque siamo riusciti ad avere il collegamento anche in via audio e eh è già più che sufficiente tranquillo anche grazie alla nostra squadra tecnica stando qui sul campo noi siamo eh frenetici siamo pieni di lavoro perché adesso contiamo veramente le ore perché domani essendo l'ultima giornata di Sanremo eh parecchi levano le tende quindi eh quindi bisogna battere le ore le ultime ore sono queste perché da domani già parecchia gente va via parliamo sempre nel settore lavorativo nel campo musicale quindi eh ci stiamo preparando a anche noi a ritornare pian pianino a casa ecco. Per quanto Donino ci sentiamo domani. È tutto da Sanremo un abbraccio e una rivederci domani sera. Grazie Donino a te un abbraccio buon rientro da Monte Carlo e tutto per quanto concerne questo nostro speciale dedicato a Sanremo ma vi aspettiamo tra due ore con dentro la notizia. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. A più tardi. Grazie a tutti.